Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Attore di Dio. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ogni persona consacrata al sacro volere dell'Onnipotente è un attore preparato e un attore preparato svolge la propria scena, la riempie con intensità, con la propria bravura, con la propria attenzione. Quindi un attore di Dio mostra le sue caratteristiche forti con la propria misericordia, la perseveranza nell'impegno, l'attenzione, la calma e il rispetto verso tutte le cose positive che possano fare in modo da far crescere il valore della fede. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Attore di Dio. Ogni uomo consacrato al sacro volere di Dio è un attore preparato per stupire il mondo intero. Con le doti della perseveranza, colmo di misericordia e pazienza, con una fede ricca di gioia e un attore ricco di saggezza. Attori di Dio saremo se attueremo le azioni che nell'angelo custode troveremo e le eseguiremo con tanti aneliti. Attori di Dio per recitare la parte più bella e reale, donare tutto al mondo con fede, unito alla pazza voglia di amare. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.